Bella raga, io sono in Arteluke, ragazzi, non so se questa cosa qua sia vera o no, ma Sting ha annunciato che lui fa 18 ore di sesso. Caro Sting, se stai ascoltando questo mio Storie Rock, questo mio bellissimo programma, io ti ho battuto, io faccio 20 ore di sesso. Storie Rock in Arteluke.